Per tornare a crescere interventi diretti a favore dell'occupazione e della crescita dei redditi delle famiglie. Su questo tema si è svolta la terza assemblea elettiva della Confesercenti di Napoli a Castel dell'Ovo. L'apertura dei lavori è stata affidata al direttore regionale della Confesercenti Campania, Pasquale Giglio, prima della relazione del presidente regionale Vincenzo Schiavo. In prima fila, oltre al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, anche l'assessore regionale Fulvio Martuscello, nonché Don Tonino Palmese, rappresentanza dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzo Sepe. In una sala gremita, gli iscritti alla Confesercenti hanno ascoltato gli interventi, completati da un audiovisivo, che ha dato voce e spazio ad altri esponenti della categoria. Ai nostri microfoni Vincenzo Schiavo traccia un profilo della situazione attuale. Lo stato di salute non è bello, perché purtroppo le imprese in questo momento stanno soffrendo tanto. Adesso dobbiamo soltanto fare sinergia, tutti insieme dobbiamo lavorare la politica nazionale, la politica regionale, la politica dei comuni, delle province e le associazioni di categoria. Adesso c'è un bene che va al di là di ogni colore politico e di ogni schieramento, c'è il bene della nostra regione. Tutti insieme dobbiamo lavorare per ridurre la burocrazia in questo paese, tutti noi dobbiamo lavorare per far dare più credito alle imprese, tutti noi dobbiamo lavorare perché le imprese possono avere più economia. Questo è quello che dobbiamo fare.